Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia! Ehi Fleck, ce l'hai una barzelletta per noi? Usiamo la musica per completarci. Per ricomporre le fratture dentro di noi. Io non sono nessuno. Non ho fatto qualcosa della mia vita come te. Andiamocene da qui. Io non sono nessuno. Dici, cosa è cambiato? Arturo, ve lo dico cos'è cambiato. Non sono più solo. È di questo che dovremmo parlare! Voglio vedere il vero te. È di questo che dovremmo parlare! È di questo che dovremmo parlare!